Buongiorno, ben trovati sul canale di ariacentese.com chiusura col botto per la 45esima edizione della Fiera delle Pere una serata veramente spettacolare con Viva, Lucio Dalla e Fabio Supernova e la sua band vediamo insieme e non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare perché ho scritto una canzone per ogni venti vero e devo stare a te, a non cadere in un vino può finire dentro i tuoi occhi e se mi vieni più vicino niente da capire, pu lattare vieni stiamo all'ultima la sua bandina non c'è niente da capire ok sì si Grazie. 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 Buona giornata.